ci sono sostanzialmente due parametri per classificare le auto nei cosiddetti segmenti di mercato uno è la lunghezza e dimensioni esterne e l'altro è il prezzo e questo ci permette di inquadrare meglio la protagonista di questo come configurarla la peugeot 2008 che rispetto al precedente modello ha fatto un salto in avanti passando dal segmento b a segmento c o meglio infilandosi in mezzo visto che di solito il segmento b va da lunghezze da 3 metri 80 fino a 4 metri 20 e il segmento c arriva fino a 4 metri e 50 ma la 2008 si è avvicinata alla sorella maggiore della 3008 anche per il design sia esterno che interno e poi anche per gli equipaggiamenti contenuti vediamo allora come configurarla sul sito ufficiale il configuratore peugeot che suddivide i suoi modelli anche per categorie quindi andiamo sul tab dedicato ai suv e vediamo come composta la gamma della nuova 2008 a partire dagli allestimenti che sono quattro active allure gt line e gt direi che la nuova generazione dei modelli peugeot è stata particolarmente apprezzata nell'allestimento gt line perché da quel tocco di sportività pur rimanendo in equilibrio anche rispetto all'eleganza o comunque i prezzi quindi selezioniamo questa versione come riferimento e vedete che i motori disponibili sono il 1200 3 cilindri a benzina da 130 cavalli disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure il diesel da 100 cavalli ma non rinuncerei questa su quest'auto all'automatico 8 rapporti con convertitore idraulico di coppia perché è molto piacevole e non si trova tanto facilmente su questa fascia di mercato e vedete la differenza di prezzo tra il benzina 28.600 euro e il diesel è di 2000 euro quindi tenete conto di questo delta prezzo diciamo così se fate più chilometri o vivete in città che non penalizzano troppo la circolazione di diesel noi invece come punto di riferimento prendiamo la 2008 pure tech 1200 3 cilindri turbo benzina 130 cavalli e iniziamo la configurazione a partire dai colori esterni vedete il colore la vernice compresa nel prezzo e questo arancio mentre per alcuni colori anche pastello optional ci vogliono 650 euro oppure tinte speciali 800 euro io scelgo questo blu perché mi permette anche di farvi vedere meglio in questa anteprima come rendono soprattutto i contrasti di colore sulla carrozzeria ma anche il trattamento delle superfici molto scolpito molto spigoloso che è stato apprezzato tanto sulla 3008 e che questa 2008 ripropone vi faccio vedere anche gli interni con il classico ormai ai cockpit e con la strumentazione digitale 3d che vi permette di avere un colpo d'occhio su tutte le informazioni relative ai dati di guida oppure anche con lo schermo centrale in alto sulla plancia che come fa vedere già questa anteprima propone di serie la compatibilità con android auto ed apple carplay ci sono anche gli ormai diventati tipici anche qui tasti cosiddetti a pianoforte in mezzo alla console centrale e poi vedete la leva del cambio automatico che ha una forma ergonomica che si è vista anche su altri modelli del marchio e del gruppo psa vediamo ora invece gli interni che opzioni ci offrono c'è un interno in pelle da 1600 euro che in questo momento lascio stare ed ecco invece altri accessori a partire senza sovrapprezzo dalla possibilità di avere il tetto non più a contrasto con la carrozzeria ma nello stesso colore verniciato nello stesso colore e passando all'interno vedete si può avere per una cifra abbastanza accettabile la piattaforma di ricarica wireless per il telefono aggiungo invece per 800 euro un impianto wi-fi più di qualità in questo caso marchiato focal mentre lascio perdere sempre per 800 euro la navigazione di serie del sistema perché come abbiamo visto prima utilizzerei la compatibilità con gli smartphone 200 euro in più per i sedili riscaldabili li aggiungo il park assist l'assistenza altiva attiva al parcheggio invece la lascio perdere perché questo tipo di sistemi comunque non sono ancora di parcheggio semi automatico così efficaci nella vita reale mentre 350 euro per la chiave keyless fanno comodo così la potete tenere sempre in tasca per entrare e uscire dall'auto tetto panoramico non sono un grande fan quindi lo lascio da parte i cerchi in lega su questa versione sono già di serie da 17 pollici ma andiamo a vedere invece anche l'assistenza alla guida intanto l'allarme su una macchina del genere 400 euro vale la pena il sensore di angolo cieco laterale lo mettiamo perché molto utile 150 euro così come gli airbag posteriori laterali qui c'è anche sulla gt line la possibilità di avere il grip control quindi una serie di programmi di guida che ottimizza la motricità della trazione anteriore per i fondi a bassa aderenza quindi se non avete necessità potete anche evitare di selezionarlo mentre per 500 euro ci sono una serie di assistenti alla guida come il mantenitore di corsia attivo oppure il cruise control adattivo quindi lo aggiungiamo 500 euro in più e andiamo a vedere sì abbiamo abbiamo finito con la configurazione e questo è il prezzo totale di 32 mila euro e per farvi un'idea più precisa ho già configurato anche altre due altri due 2008 con allestimenti inferiori quindi l'allure vedete 29 mila 700 euro quindi circa 2000 euro in meno e stesso discorso la base active 26 mila 500 euro quindi rispetto alla livello intermedio sono quasi 3000 euro che differenze sostanziali ci sono tra queste tre versioni innanzitutto i cerchi sono da 16 sulla allure diventa sulla active diventano 17 sull'allure rimangono di questa dimensione sulla gt line ma poi sostanzialmente sulla 2008 base bisogna aggiungere accessori utili come il bagagliaio con pavimento regolabile i sensori di parcheggio la telecamera di retromarcia salendo sull'allure si possono mettere comfort in più come i sedili riscaldabili mentre sulla gt line è più che altro una questione di finiture ed estetica questo per quanto riguarda un confronto all'interno del listino della peugeot 2008 per farsi un'idea sulle differenze tra le varie versioni mentre per ragionare rispetto a quanto invece offre la concorrenza uno dei modelli da tenere in considerazione perché un po' il riferimento in questa categoria è la voxwagen t rock anche se è leggermente più corta ma abbiamo visto che questo non è l'unico parametro per classificare un'auto all'interno di un determinato segmento e poi mi è venuta in mente anche la mini countryman perché molto ben rifinita lo si percepisce anche nel prezzo ma soprattutto ha una guidabilità davvero ottima per essere un piccolo SUV ma lo sapete all'interno di questa fascia di mercato i modelli sono tanti come mi viene in mente anche la renault capture e quindi fatevi un'idea anche voi su come configurereste la peugeot 2008 magari anche quali scelte fareste rispetto alle concorrenti e fatecelo sapere nei commenti mentre noi ci vediamo al prossimo video del come configurarla grazie a tutti